allora questa nostra grazie mille gentilissima odia tesoro ok stai attento la allora ci avviciniamo di soppiattoli prendiamo già li spariamo uno lo vedo là dietro la ringhiera si si lo vedo dietro la ringhiera io erano due lì cazzo ok ecco manca l'ultimo noi noi se vieni con me da questa parte mi ricordo che da questa proprio qui guarda appena arrivo da questo c'è un nemico aspetta prova pro cino con l'usp con un colpo la testa magari non ti rilevano usp na città è venato la tec l'ultimo l'ultimo penso sia c'è chi non si fa sulla 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 che ci sono quattro nemici o zagher naut spostati a quanti colpi per andar giù dai sei preso cazzo dietro 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 dove dove qua ok a vario facciamo iniezione se vuoi insieme delle patatine però mi sa che un punto potevamo anche prenderlo sai che è chiuso giugio 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 a cazzo no è una colpa preso che aspetta u mamma mi sono un genio cosa dal foro dal buco qua del vetro dovevo sparare al pulsante ma dai amiche a tempo aspetta quasi un video guarda si equipaggiando un'armatura pesante oddio prendi a te indignata ok quante ne hai 165 penso che apra la porta o arrivino da sopra 10 in vita ok a merda ma cosa sono tipo zombie a madonna santa immaginavo uscisse qualcosa erano prigionieri tutto quanto aspetta guarda se c'è qualcosa dentro le celle non hai perso troppa salute vero sono 79 vabbè ancora un'azione che bisogna andare po e dove andare avanti aspetta a quei 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 no pensi sarà un bottone da qualche porta a sparare bisogna andare ha capito guarda ah è sì è vero che css munizioni qua c'è cose quindi m406 ci io faccio un buco stranissimo mi crediamo dai sotto prova premia entrambi aspetta 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 ma vedi qua vedi qua inizioni no però me la tengo dove sono le munizioni oddio erano qui cacchio consumate perché avevo solo un colpo della galile no dobbiamo andare vista nel buco non riesco a ucciderli no gli ultimi due via però sono intelligenti cazzo curati 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 no no aspetta aspetta che non lo trovo non hai visto dietro la porta aspetta dietro la porta dietro la porta dietro questa no no l'altra ok a posto galile hai la corazza quindi ancora se ne ho cento ok vabbè io ho cento di vita operazioni tutti prendite prendite quello da io su 50 di vita quindi mi faccio l'inizio nè ancora una no aspetta non è che tra posso trovare si a nice grazie speriamo andare a questa dobbiamo salire di qua aspetta che magari di qua non c'è qualcuno m4 prendo e prendi mancano due proprio uno e uno qua ha preso preso mi sa che se ci danno così tanta roba perché o dobbiamo difendere il posto o perché ci sarà tanta roba dopo e mi sa tantissimo che arrivano gente a romperci le palle perché qua è la fine adesso andiamo qui scommetto apriamo qui chiamiamo i soccorsi io devo puntare a far le headshot con l'SG adesso idem anche se la vp shotta in ogni caso a parte i juggernaut che forse i juggernaut romperanno un po' le palle oh cheat devo fare headshot ah dove eh cazzo ora fai eh juggernaut ok ok non so se prendermi la K o te nemmi le SG ora qua le M2 le M2 49 che fai non lo prendo oh qua c'è una digol quella digol ah vedi qua guarda che c'è una inizione si vedi adesso arriva la cosa di difendere uh vai difendiamo indie abbiamo ancora un sacco di granate ne ricordiamocele si si fammi fammi prendere questa ah oh cacchio oh cacchio merda no attento il gas è il il veleno il veleno oh mio dio guarda come si no cazzo via 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 saliamo saliamo ok cazzo via no 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 adesso ah dobbiamo andare qua dobbiamo andare qua corri no dove cazzo è la zona sicura cazzo è la zona sicura cazzo è la zona sicura si capisce una minchia però nooo dove dovevamo andare anche io non ho capito dovevamo andare che fallee non capisco perché ogni missione da un punto sono difficili c'è mi chiedo che senso ha se ti sparo non stai fermo nooo non ha senso mi muore vedete un cazzo di ceppo di legno ceppo di legno madonna lezzo su capiette madafaka porco guarda che c'è quello grosso porco let's go let's go let's go motherfuckers adesso arrivano dall'alto dall'alto come quel porco bello come per fortuna ho messo il mio canale in modalità adulta ah ma quindi non c'è bisogno di censurarla più o meno no c'è un AUG lo voglio merda ti ricordo che dobbiamo andare da questa tegrason figa tegrason 21 beh figa boi ora mi sale il veneto pacco che sono capì alla cassuola la tia dusberle come over here come over here andiamo adesso vai prendi quello che sono giocati nelle vivono un bel po inizioni medica oh inizioni medica aspetti facciamo i pallocino therefore arrabbi aaaa idaggernaut minchia bella quell'Hitbox del juggernaut scrrrrrr oh no questo qua è il kalashnikov anche questo al kalashnikov ah no quello è il galil C'è un H1 No, è volato la cappa No Tantini fa schifo Allora visto che faccio schifo prendo l'hug Pezzo di merda Dammi il lago Vai 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 Prendi Ecco figati Ti faccio diventare il tuo video un cazzo di Peggy21 Vado tante besteme Che esce Gesù e dice Hai fatto la nuca Cazzo, complimenti, mi staggia la mano Che, 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 combo breaker Sai cosa vuoi, anche una crattata di palle Metterò come video No clickbait, video più bestemioso D'Italia Aspetta fammi rimediare Pi, 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 pi Indio è diventato un cazzo di phase Wow Ma, ma poi vai, ma poi vai nella villa da 15 milioni dei fizzi E ci, su, su, fornette Ti fai cacciare, ah no, non ti chiami Jarvis Ah, è vero che era Jarvis Quello che si è fatto Sì, ma è un coglione, dai Come cazzo E tutti, e tutti gli streamer Lo stanno difendendo Quando fai in realtà Ma, 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 ma di quello non me ne frega un cazzo Ma non puoi cittare con un altro account A che sono nel tuo e dire Eh, vabbè, ma non era il mio Quindi vuol dire che non vale Eh, vabbè, ma tua madre è pure una troia Vabbè, no? Di fuoco volante Ah! Quindi Wolf è morto Perché sei inutile alla vita Sono sempre stato inutile Spara, lì sono due Ah, no, sono quattro Sì, vorrei anche non morire Comprendi che vorrei anche vivere Porco Porco Oh no! Ma vai affanculo Mi sono rotto il cazzo Questa modalità di merda Adesso vado lì e gioco a cazzo Tem pure le famiglie Di chi ha creato quelle bide Ma apre il cazzo Ma non si può giocare in tre Che cazzo ne so io Siamo gli unici due mongoli online A quest'ora Gli altri hanno una ruola E sono gli unici due mongoli Che si sono presi Si sono passi di sta merda Ma in realtà Noi stiamo facendo Ma lo sai che mi sai In questa modalità? In realtà noi siamo i cattivi Stiamo facendo i massacri No, noi siamo i cattivi Perché loro stanno Loro in realtà Stanno trovando la cura La cura contro il cancro E non gli da stupare Stiamo ciulando per poi distruggerla Ma guardate che la cura contro il cancro Ma noi Non ce ne frega Proprio un cazzo Sono americano Noi americani Siamo i buoni Mi frega qualcosa Poi l'industria farmaceutica Crolla E' colpa mia Perché vi ho Perché non vi ho fermati Perché ogni volta Che devo esserci io In un tuo video Dove sempre bestegnare Perché il tuo logo Che cazzo di italiano è Ho detto il tuo logo Ah giusto Allora come immagine Il profilo di steam Metto Germano Mosconi Con su scrittinato Dio Minchia Doverò usare Tra me la di quei b Perché questo Questa cosa può sembrerà Uno di quei presente Tipo Interruzioni Interruzioni televisive Di Patti Ti sono i che devi mettere Nelle censure Guarda io sono un cancro Gioco a cs Perché devo sempre Dormire il cringe Perché Perché il mio marchio di fabbrica È il tuo marchio di fabbrica Eh cazzo ha ragione Ma come è solo 3 kg La mia vita Porco Stavo per fare un volo Raga indie è utile per una volta Oh cazzo No Wow Mi sento orgoglioso Di aver messo su un cretino come lui Grazie Ti adoro anch'io No Invece Ah ok grazie E io ti frego Questa seringa Ma sono due La testa Usi anche la seconda Vengo di ti Ti faccio Ti faccio Stavo per farlo Se me la cilavi E arrivavo lì Ti facciamo il cazzo di divido Sulla guancia Merda Ti facciamo il cerchio viola Il cerchio della vita Grazie Grazie